In Iraq e nel Medio Oriente l'odio fanatico del terrorismo continua a provocare una forte emorragia di fedeli cristiani che si allontanano dalle terre dei loro padri, le terre di Abramo, dei profeti e delle prime chiese che hanno vissuto secoli di pacifica convivenza con i fratelli dell'Islam. Lo ha denunciato ancora una volta Papa Francesco incontrando i vescovi partecipanti al sinodo della chiesa Caldea in corso in Vaticano. Il pontefice ha ricordato che questi nostri tempi sono segnati da innumerevoli esempi di persecuzione anche fino al martirio e che la chiesa Caldea conosce e risponde anche ai bisogni dei fedeli della diaspora che cercano di restare saldi nelle proprie radici. Dopo aver confermato il sostegno della santa sede alla chiesa Caldea il Papa ha detto di pregare affinché i cristiani non siano costretti ad abbandonare l'Iraq e il Medio Oriente e ha esortato i vescovi ad adoperarsi come costruttori di unità in tutte le province dell'Iraq. Quindi ha rinnovato il suo appello alla comunità internazionale. affinché sappia adottare tutte le strategie valide al fin di promuovere il raggiungimento della pace in paesi terribilmente devastati dall'odio, per riportare il soffio vitale dell'amore in luoghi che da sempre sono stati crocevia dei popoli, culturi e nazioni. La tanto auspicata pace possa sforcere all'orizzonte della storia, affinché i lutuosi drammi inferti dalla violenza lasciano il posto ad un clima di reciproca convivenza.